Vietare la sperimentazione del 5G, applicare il principio di precauzione. La provincia Barletta Andrea Trani ha deciso di inoltrare a tutti i comuni e fare dunque propria la diffida che l'associazione dei consumatori Kodakons ha inviato alle amministrazioni di ogni ordine e grado. Il Kodakons chiede che si fermi la sperimentazione della tecnologia di quinta generazione che sarà abilitante per ottenere l'ultra velocità di navigazione su internet anche da dispositivi mobili e di rendere realtà il cosiddetto internet delle cose e l'industria 4.0. Promesse affascinanti ma a che prezzo non si sa. L'inquinamento elettromagnetico è sempre più diffuso e sempre più impattante sulla vita umana. Genera molta preoccupazione per i rischi sulla salute che potrebbero derivare dalle onde elettromagnetiche. Al momento infatti non ci sono garanzie sul rispetto degli standard di minima emissione sul 5G. Un mese fa l'installazione di un'antenna nei presi di due strutture scolastiche in zona via Murgia ad Andrea aveva messo in ambasce gli abitanti del quartiere che, in men che non si dica, hanno raccolto e presentato al commissario prefettizio e all'ARPA Puglia oltre mille firme per capire se fosse tutto in regola e se si potessero escludere rischi per la salute umana e dei bambini. Anche il forum Ambiente e Salute di Andrea, che raccoglie circa 40 associazioni, ha posto il problema del 5G e suggerito alcuni accorgimenti che, in mancanza di rassicurazioni scientifiche, possono evitare di mettere a rischio almeno la salute dei bambini, per esempio favorire nelle scuole e negli asili l'utilizzo di connessioni internet via cavo, evitare telefonini e tablet e prediligere la telefonia fissa.